Oggi è il 26 dicembre 2021 e in questo periodo di festa dove saremo forse anche impegnati a scambiare doni, a riunirci con i familiari e se questo può farvi felice, festeggiare il Natale e le feste in questo modo, fatelo, fate ciò che vi fa star bene. Però questa mattina la mia riflessione, il mio consiglio vuole essere questo, dedicatevi un momentino tutto solo per voi, un momento tutto vostro in mezzo alla natura, ovunque voi siate, in un parco cittadino, davanti a un albero, in riva al mare come me, in montagna, ovunque voi siate, celebrate Madre Terra e la natura ora più che mai, perché ci sta parlando. E mentre ancora la battaglia nei cieli è aperta e il drago sta combattendo con l'Arcangelo Solare, proprio in questo momento, presto la battaglia finirà e vedremo grandi cose manifestarsi nei cieli, non manca molto. Ma nella consapevolezza e piena coscienza e fede che tutto avverrà secondo i piani del Signore, ritagliatevi un momento tutto per voi, per lodare e ringraziare. In riva al mare, come faccio io camminando, non posso fare a meno di cantare in me al Signore, di lodarlo, di ringraziarlo per ciò che ho, non per ciò che mi manca. Qualcuno di noi, me compresa, abbiamo i nostri cari lontani, non abbiamo la possibilità di stringerli forte nelle braccia. Magari con questo Natale ci sono mancati tanto e la nostalgia si è fatta sentire come capita spesso nelle feste. Magari un po' di tristezza, magari dei ricordi nostalgici. Quindi, chiunque di noi nelle feste viene sottoposto a questa prova del passato, del presente, del futuro. Come le classiche fiabe di Natale, del fantasma, del passato, del presente e del futuro. Ma, ritornando seri, accogliamo queste emozioni, non reprimiamole e lasciamo che la trasformazione avvenga. E questa volta, questo Natale, lasciamo che qualcosa cambi in noi. E invece di pensare in maniera nostalgica a ciò che ci è stato dato o tolto, ringraziamo per averlo avuto. E invece di piangerci addosso, magari perché siamo soli, ringraziamo per quel momento di raccoglimento che ci viene concesso. E di meditazione, di profonda riflessione. E magari, invece di lamentarci perché ci manca qualcosa, ringraziamo per ciò che abbiamo, pensando a chi ha molto, molto meno. Ai poveri che non hanno neanche un pasto caldo, mentre a noi, un tetto sopra la testa e un piatto di pasta non manca. Allora, ringraziamo. E cerchiamo di entrare dentro di noi. E di vivere questo Natale come una rinascita interiore, non esteriore. Con questo non voglio dire che sia sbagliato riunirsi tutti, scambiarsi i doni e, diciamo, la frenesia del Natale commerciale. Se vi fa star bene, ma tenetevi dieci minuti almeno solo per voi, per riflettere sulla vera essenza di questa festa. Sul Cristo bambino che nasce nel mondo. Sul sole bambino che torna. E un nuovo ciclo si apre davanti a noi. Riflettiamo. Riflettete. E godete di queste feste anche in maniera interiore, tutta vostra. E nel cammino della vita, abbiate sempre gli occhi in alto, lo sguardo verso l'alto, gli occhi rivolti al sole, come il girasole, e i piedi piantati per terra. Come diceva San Francesco, piedi per terra nella polvere, ma occhi e sguardo verso il cielo. E allora così, e godiamo il momento presente anche...